Grazie a tutti. Salvatore Diagonesi e Oriana Persico che terranno questa mattina un talk aperto e cominceranno invece da questo pomeriggio fino a dopodomani un workshop a numero chiuso. Io voglio ringraziare i laboratori dal basso e tutti quelli che ci hanno permesso di realizzare questo evento, anche i docenti che sono stati qui precedentemente, da John Greenway, Martin Fussleitner, Leonardo Romei e Fabio Franchino. E adesso lascio subito la parola a Salvatore e Oriana ricordando anche i presenti appena è possibile di registrarsi con il modulo che c'è all'ingresso. e a chi verrà anche dopo per il workshop di portare anche i documenti, la carta di identità fotocopiata e tutto quanto, quello che abbiamo inviato per email. Ringrazio tutti e poi lascio la parola a Salvatore e Oriana. Grazie. Grazie. Siamo due cose. Siamo una cosa che si chiama Artis Open Source e una cosa che si chiama Human Ecosystems. Iniziamo da Artis Open Source. Artis Open Source è un network, un network interdisciplinare che riunisce antropologi, designer, hacker, artisti, ricercatori di vari tipi, organizzazioni e abbiamo un grande obiettivo, capire come si stanno trasformando gli esseri umani con l'avvento, l'ampia e accessibile disponibilità di tecnologie ubiquue. Questo è un grande obiettivo che può voler dire tante cose e adesso ne vedremo alcune. Nell'ambito di questo tipo di attività, che quindi si svolge in modi più o meno formali, tra l'arte, la performance, la ricerca scientifica, anche progetti commerciali, combinati possibilmente, questo è lo scenario migliore in un tutt'uno, in un tutt'uno organico, nell'ambito di queste cose, di questi tipi di cose, noi lavoriamo molto nelle città e con il concetto di città e con il ruolo che la città assume per tante persone, per tanti di noi. E questo è un po' il ruolo di Human Ecosystems, perché Human Ecosystems, e ne vedremo ampiamente tra poco, fa una cosa molto particolare, parte dal concetto che in tutta la nostra vita, in tutti gli aspetti della nostra vita, noi generiamo informazioni, generiamo informazioni di tanti tipi diversi, alcune le generiamo in modo consapevole, altre le generiamo in modo inconsapevole, altre le generiamo immaginando di comunicare, però magari non ci rendiamo bene conto che quello che generiamo in termini di informazione può anche avere altri usi, e ne ha, e viene utilizzato sistematicamente, e quindi noi cosa facciamo? Partiamo dal concetto di spazio pubblico, ci rendiamo conto che il concetto di spazio pubblico è molto cambiato, diciamo con l'avvento dei social network, delle tecnologie ubiqui, dei cellulari, dei sensori, delle telecamere per strada, insomma, e di quant'altro, e lo prendiamo come fatto, e quindi collezioniamo, raccogliamo tutte, tante, tante informazioni che noi esseri umani generiamo, no? Nelle città, per esempio, e le rendiamo un nuovo tipo di spazio pubblico. Come facciamo? C'è una spiegazione più ampia che vediamo fra un po', però diciamo, possiamo iniziare a dire che apriamo questi dati, perché allo stato attuale, tanti soggetti hanno uso di questi dati, Facebook ne ha uso, Twitter ne ha uso, che ne so, l'NSA ne ha uso, no? Come abbiamo scoperto di recente. Gli unici che non hanno uso di queste informazioni sono proprio gli esseri umani, i cittadini, no? E quindi noi che cosa facciamo? Raccogliamo tutte queste informazioni e le apriamo e ci facciamo una serie di cose che vediamo tra un po'. In tutto questo, noi siamo qui oggi, io e Oriana, non perché siamo qualcosa di speciale nell'ambito di Arties Open Source o di Human Ecosystems, siamo un po' il portavoce di una serie di cose più ampie che succedono, tra ricerca e organizzazioni e quant'altro. Io mi occupo, diciamo, principalmente degli aspetti teorici e come si riflettono nella pratica, quindi io sono un artista, un hacker, un ingegnere robotico e mi muovo di conseguenza, quindi tra arte, codice, performance di vario genere. Oriana, per esempio, si occupa molto dell'aspetto di comunicazione, di quello che facciamo. Quindi, per esempio, adesso, questo è evidente anche adesso, perché, per esempio, ora io sto qua a chiacchierare con voi, e Oriana, per esempio, si sta occupando di far sì che tante persone, a parte quelle che sono presenti qui o attraverso lo streaming, siano a conoscenza di quello che sta avvenendo qua, quello che ci stiamo raccontando, e per esempio, magari, succederà che ci interrompe e ci dice, ok, c'è Tizio o Tizia, no, che ha una domanda su quello che stiamo dicendo, no, e per esempio, magari, sarà interessante. E anche voi, questo, io odio i talk monolitici, no, quindi, in realtà, facciamo sì che sia una conversazione, no, quindi, interrompetemi, non è un'interruzione, è una conversazione, ok? Quindi, chiacchieriamo, chiacchieriamo, iniziando a vedere qualcosa, no, perché, diciamo, adesso ho detto tante cose un po' vaghe, per esempio, a me piace molto scendere nei progetti, no, scendere, parlare per progetti, no, cosa facciamo? E, per esempio, iniziamo da una cosa che abbiamo presentato un paio di anni fa al Festival Transmediale di Berlino, che si chiama Consciousness of Dreams. Consciousness of Dreams è un intervento sulle città. Che cosa è successo? In occasione del Festival Transmediale abbiamo distribuito, tramite una app per cellulari e tramite delle postazioni fisiche, quindi sono comparse in tante città delle postazioni fisiche, dei chioschi come questi, li chiamavamo disseminated node, nodi disseminati. Cosa si poteva fare in questi nodi, quindi tramite l'app o tramite questi nodi? Si parlava del 2011, 2011, io sono pessimo con le date. Cosa si poteva fare tramite questi nodi disseminati o tramite l'app? Si poteva dichiarare qual era il proprio stato emotivo in una certa parte della città, ok? Quindi immaginatevi che a un certo punto della mia giornata mi sono incavolato per qualche motivo, apro l'app e scelgo, che ne so, anger, ok? Sono arrabbiato, ok? E quindi sul database che è, oppure arrivo, sto uscendo dalla metropolitana di San Paolo in Brasile, trovo questo, come effettivamente avveniva, trovo questo disseminated node che mi dice come stai adesso? Ah, sono proprio arrabbiato perché la metropolitana è arrivata con tanti minuti di ritardo, oppure perché sono in ritardo al lavoro, insomma, per quello che mi pare. E le persone potevano fare, potevano anche corredare questa dichiarazione emozionale di un suono, quindi partiva il microfono e potevano registrare un urlo, una risata, un qualcosa, un suono, un batto dietro di mani, c'è qualcuno che ci ha fatto anche dei rutti, per dire, cioè, qualsiasi cosa, oppure da una immagine, si potevano, avevano tre secondi per riprendersi, ok? Quindi, sì, cosa succedeva? Mano a mano si creava una, diciamo, una geografia, quindi cosa mostra questa mappa? Mostra, codificata per colore, vedete, insomma, quindi questi colori, no, delle emozioni, sono gli stessi della mappa, mostrava i punti in cui le persone dichiaravano diversi stadi emozionali. E questo era molto interessante, perché cosa indicano le connessioni? Per, abbiamo fatto un gioco, abbiamo fatto un gioco che prevedeva di collegare emozioni simili che venivano dichiarate dalle persone in tempi, diciamo, praticamente simultanei, quindi se io dichiaro di essere arrabbiato e qualcuno, che ne so, a San Paolo, in Brasile o in, che ne so, a San Francisco dichiara di essere arrabbiato in un momento vicino, no? Collegavamo le emozioni simili, ok? Quindi se c'è un arco, per esempio, per esempio, che ne so, dall'Europa fino a, quello sarà Rio de Janeiro, penso, vuol dire che ci sono due persone che praticamente, simultaneamente, hanno dichiarato di avere emozioni simili, ok? E quindi, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era di descrivere un nuovo tipo di geografia, un nuovo tipo di geografia che non era basato su edifici, monumenti, strade, toponomastiche varie, eccetera, eccetera. Ma era basato, era una geografia emozionale, ok? Quindi una geografia che formava una strada dovunque le persone avevano emozioni simili, ok? E quindi una geografia globale, no? E tra l'altro mutevole, no? E perché ci sembrava un concetto molto interessante e mano a mano che andremo avanti vedremo perché. È stata una cosa di abbastanza successo. Abbiamo installato questi disseminated node in dieci città e l'applicazione è stata scaricata non tantissimo ma da 80.000 persone. Non è tantissimo nel mercato globale, però insomma sono sempre 80.000 persone, insomma, no? E diciamo, questa mappa cambiava di continuo ed era interessantissimo perché poi abbiamo fatto delle statistiche, delle cose ed era molto interessante diciamo vedere come si manifestavano le emozioni nelle città. Tanto che questa cosa è continuata anche dopo per varie cose le vediamo dopo, le vediamo dopo. E quindi a Transmediale qui siamo nella House of Culture di Berlino potete riconoscere anche per esempio Derek Decker-Cove a lato e io con i capelli lunghi di qua Warberg che è un altro filosofo queer dei studi di genere e quindi cosa facevamo? Mano a mano che le cose cambiavano le stampavamo quindi stampavamo tutte queste statistiche e le affiggiavamo la vedete qui c'era scritto day one day two quindi giorno uno giorno due e studiavamo i cambiamenti studiavamo i cambiamenti e quindi questo era è stato una specie di massacro perché è stato praticamente cinque giorni di workshop continuo a tentare di capire come variavano gli stati emozionali per come erano espressi dalle persone nelle città ed è stato veramente interessantissimo questa è forse la prima volta in cui abbiamo definito il concetto di emotional landmark quindi monumento emozionale che vedremo tra poco ricordatevi questo termine una cosa simile però diciamo attuata in modi diversi per esempio l'abbiamo fatta nel caso del centenario della nascita di Marshall McLuhan abbiamo preso la teoria di Marshall McLuhan dell'uomo elettronico e quindi questo essere umano che si modifica progressivamente questo essere umano quindi il cui sistema nervoso per come maturano le tecnologie progressivamente esce dal suo corpo e si estende a tutto il globo per esempio con oggetti come questo non abbiamo difficoltà alcuna a capire di cosa stiamo parlando perché effettivamente con questo oggetto il nostro sistema nervoso si estende a tutto il globo per cui possiamo avere sensibilità che si estendono al di fuori del nostro corpo e quindi noi abbiamo preso molto la lettera e abbiamo inventato un supereroe che è l'Electronic Man e che cosa è questo Electronic Man è un'app è un'app il cui scopo è di costruire un corpo ubiquo cosa vuol dire un corpo ubiquo ancora una volta si richiedeva un'espressione emozionale alle persone quindi tu apri la app sta ancora sull'Apple Store e su Google Play se la volete tu apri questa app e io adesso ho cambiato di recente eccolo qua ce l'ho ancora quindi per esempio la app non so piccolissima quindi che cosa succede in questa app potete selezionare un'emozione io sono interested potete registrare un'emozione yes ok e cosa succede che quando una persona usa la app per registrare un'emozione a tutti gli altri che hanno installato l'app gli vibra il telefono in tasca quindi che cosa succede se ci pensate è una stupidaggine però è interessante quindi qualcuno che esprime una emozione uno stato emozionale a che ne so a Montreal in Canada vi fa squillare il cellulare quindi in un certo senso siete anche voi che avete il cellulare in tasca che avete questa sensazione siete partecipi di questa emozione espressa da qualcun altro a Montreal per esempio e questo diciamo è proprio l'uomo elettronico è l'uomo elettronico quindi abbiamo un sistema nervoso che effettivamente si estende al di là del limite del nostro corpo ok è interessantissimo come concetto perché per esempio questa noi per esempio nelle conferenze tipo accademico la descriviamo come un nuovo senso un nuovo un nuovo senso proprio come c'è il il tatto l'olfatto il gusto così e c'è un nuovo senso no un nuovo senso che reagisce a cosa il tatto reagisce alla texture delle cose la vista reagisce al campo visivo quindi all'insieme delle frequenze questo nuovo senso reagisce agli stati emozionali di possibilmente infinite persone attraverso il globo ed è interessantissimo perché diciamo è l'evidenza di una cosa che non serve questa app per farla accadere perché tanti tanti nostri sensi sono già stati trasformati nel corso di di questa diciamo ondata di tecnologia che stiamo vivendo in questi anni e addirittura ne abbiamo altri nuovi per esempio qual è un senso nuovo che abbiamo dobbiamo fare una ci ricordiamo che dobbiamo fare una telefonata ci ricordiamo che dobbiamo fare una telefonata tiriamo fuori il cellulare ah non prende il campo cosa facciamo quando non prende il campo no questo gesto è diventato talmente automatico che è paragonabile proprio a livello neurale a un senso no perché è veramente automatico e quindi abbiamo un senso no senza il bisogno di electronic man che non sta sul nostro corpo fisico ok ma sta esternalizzato su un dispositivo no ed è interessantissima questa cosa perché tante tante cose stanno cambiando in questo senso per esempio c'è un senso che diciamo prendiamo in poca considerazione quando pensiamo a quanti sensi abbiamo no che è il senso della propria eccezione il senso della propria eccezione è il senso di essere un certo posto no quindi io sono qui a Lecce nel palazzo torrisi e quindi la mia propria percezione mi dice che sono qui ma in realtà sono anche boh chi lo sa dove sono sono in streaming quindi sono anche in tutti quei posti in cui stanno venduta streaming se Oriana adesso mi fa una foto e la mette su facebook sono anche su facebook dove sono quando mi collego con skype con una persona sono seduto sulla mia sedia sono a casa dell'altra persona sono in qualche posto in mezzo probabilmente sono in qualche posto in mezzo no perché c'è una sospensione e quindi anche il senso della propria percezione che è uno dei sensi fondamentali diciamo per il nostro essere nel mondo è cambiato quindi ci sono tutta una serie di sensi che si cambiano no in questo senso no e quindi questo era il senso dell'Electronic Man e poi oltretutto l'Electronic Man c'aveva anche un'altra componente che dal sito dell'Electronic Man c'è un sito electronicman.artisopensource.net si potevano stampare degli sticker scaricare e stampare degli sticker e alle persone veniva chiesto di stamparsi questi sticker e attaccarli in giro per il mondo e quindi qui ne vediamo tanti attaccati in vari punti nel mondo e qui diciamo è una mostra che abbiamo fatto al Museo Macro di Roma che mostra ancora altre cose che erano state affisse in varie parti del mondo e cosa c'è su questi sticker? c'è questa cosa qua c'è questo QR code e quindi quando le persone vedevano quindi questo QR code per esempio attaccato a un palo della luce o attaccato a una bacheca in qualche università o dovunque potevano vedere questa cosa poteva venirgli voglia di fotografare il QR code e vedere a che cosa portava anche questo era un modo di contribuire una emozione all'uomo elettronico e quindi si veniva portati a un'interfaccia in cui ci veniva chiesto come ti senti adesso lista di emozioni potevi scegliere l'emozione l'emozione arrivava al database dell'uomo elettronico e da qui veniva irradiata quindi alle 80.000 persone quindi a 80.000 persone gli vibrava il cellulare in tasca e quindi anche nella città è anche distribuito nella città quindi è una cosa di una potenza incredibile quindi qualcuno quindi anche semplicemente con uno sticker esprimeva una emozione e a 80.000 persone gli vibrava il cellulare quindi diventavano a tutti gli effetti in tasca quindi attaccato anche al nostro corpo quindi ci vibrava brrrr no? quindi è interessantissimo perché a tutti gli effetti diventavamo sensibili alle emozioni di qualcuno no? in qualsiasi parte del mondo ovviamente le visualizzavamo queste cose era molto interessante diciamo però il concetto diciamo è in questo studio di vai ovviamente l'app doveva essere lanciata allora sì produrre questo fisicamente in senso allora fino a un certo tecnicamente fino a un certo punto le notifiche allora le notifiche per vibrazione per esempio fino a un certo punto funzionano diverse per esempio su Android e su iPhone e fino a un certo punto su per esempio iPhone potevano anche avvenire in maniera push no? se avevi abilitato l'applicazione al push poteva essere e quindi ti ritrovavi il telefono che ti vibrava autonomamente ti vibrava in tasca continuamente adesso hanno cambiato adesso insomma da un po' di anni da un paio di anni hanno cambiato la politica perché diciamo le persone ne stavano abusando e quindi adesso devi tenere aperta accesa l'app per ricevere le notifiche che vibra in realtà meglio meno male no? ci sono anche degli hack che puoi fare per farlo vibrare lo stesso però insomma diciamo noi siamo stati abbastanza erici in questo non abbiamo usato nessuno degli hack perché in teoria appena era stata creata ti vibrava continuamente il cellulare perché tante tante persone immagina all'apice adesso non lo usa quasi più nessuno no? adesso diciamo degli 80.000 c'è qualcuno che la usa a random per vedere se funziona ancora no? però diciamo immagina all'apice di quando era stata lanciata questa performance specialmente durante il centenario di McLuhan ti vibrava continuamente il cellulare ti impazziva perché continuamente persone esprimevano emozioni in tutte le parti del mondo no? e se volete potete andare sul sito e troverete per esempio queste rappresentazioni grafiche che per esempio questa in basso della mappa l'ho catturata uno screenshot per lo streaming ah perfetto per lo streaming se usate ah fantastico adesso glielo consegno anch'io lo volete qua? vai vai grande grazie meraviglia e quindi per esempio questa immagine l'ho catturata che ne so l'altro pomeriggio per essere stato l'altro ieri pomeriggio così della mappa e quindi vedete sommando i numerelli qui c'è scritto 21 6 20 quindi non sono 80.000 100.000 200.000 così però diciamo sono tantini quindi c'è gente che la usa ancora esatto e diciamo la usano adesso per come per come la sto capendo la usano piuttosto per per curiosità vediamo se funziona ancora no però diciamo e continuano a usarla no e per esempio questa era un diagramma di correlazione spazio-temporale scusa spazio-temporale quindi seguendo un po' il concetto di consciousness of streams qui c'è un link se da questa parte da questo lato c'è un link rosso se due emozioni per esempio vengono espresse in tempi simili ok e dall'altro lato c'è un link blu tra due emozioni se due emozioni vengono espresse in spazi vicini no ok quindi è interessante capire anche le concentrazioni spazio-temporale delle emozioni no per esempio è interessantissimo e lo stiamo facendo con altri mezzi per esempio le adesso che ci sono i mondiali le emozioni durante i mondiali per esempio sono emozioni veramente concentrate nello spazio e nel tempo in maniera diversa a seconda di come le persone per esempio twittano o mandano messaggi su facebook collegati alle partite mondiali e questo lo vedremo dopo o per esempio sullo stesso concetto e qui iniziamo a entrare un po' più sul concetto delle microstorie che è il tema diciamo che unisce tutte queste cose nel caso di nuclear anxiety era appena esploso Fukushima noi eravamo noi siamo molto attenti alla tematica del nucleare ci spaventa molto c'è tantissimi problemi e quando è esploso Fukushima ci siamo sentiti un po' soli e impauriti no? perché oltretutto insomma c'è una discussione planetaria che va continuamente no? che si va continuamente alimentare sul nucleare bene e male problemi diciamo ci sono tanti punti di vista scientifici tecnici positivi negativi è una situazione molto complessa no? molto complessa e che va anche oltre il sono d'accordo non sono d'accordo inquina non inquina è molto molto complessa e per oggi diciamo in questa occasione ci siamo sentiti molto impauriti e soli e quindi abbiamo deciso di sapere se c'erano persone che parlavano di nucleare e come ne parlavano no? per esempio utilizzando i social network e quindi abbiamo messo su una mappa in tempo reale di chi stava parlando usando i social network quindi Facebook Twitter Google Plus ancora non c'era non lo usavamo ancora fondamentalmente Facebook e Twitter e quindi abbiamo catturato e mostravamo in tempo reale tutte le conversazioni che trattavano di nucleare ok? ovviamente tantissime erano relative a Fukushima all'epoca però insomma diciamo anche questa è diventata un'app la potete scaricare dall'App Store da Google Play e ovviamente funziona ancora no? ci sono tantissime persone per esempio noi ascoltiamo in 29 lingue ci stanno tantissime persone che parlano di nucleare in modo più o meno comprensibile più o meno allarmistico più o meno preoccupato anche spropositatamente a favore ci sono tantissime cose e quindi a noi interessava proprio questa cosa questa miriade di storie questa miriade di storie perché molto spesso cosa si fa quando quando si fa l'osservazione di che cosa parlano le persone si usano le statistiche le statistiche sono buone e utili no? però diciamo le statistiche non sono la realtà del mondo perché se io dico che ne so gli italiani hanno in media 1,8 gambe no? non è propriamente vero non è il mondo no? è una media del mondo ok? e qual è il problema? che se io uso questa statistica no? gli italiani hanno 1,8 gambe per progettare il mondo quindi progetto un mondo per persone che hanno 1,8 gambe eh è ovviamente un esempio paradossale per capirci no? in realtà non sto facendo nulla di molto intelligente no? perché non soddisfarrò né chi ce n'ha due di gambe perché magari costruiscono scivolo strano che può essere percorso solo da una persona che ha 1,8 gambe né quello che poverino per qualche motivo non non ce n'ha nessuna né chi per esempio perché abita vicino a Fukushima ce ne sono uscite tre eccetera 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 ok? quindi sono utilissime interessantissime le statistiche però diciamo bisogna essere sempre consapevoli che non sono una rappresentazione del mondo ok? ovviamente con tanti con tante diciamo vie di addolcire questo giudizio ci sono tanti metodi tante tecniche che cosa? un po' d'acqua? sì vai ok? quindi prendete con le pinze questa affermazione però diciamo una cosa centrale è che le statistiche non descrivono il mondo descrivono una sintesi del mondo interessante utile ok? ma non descrivono il mondo per esempio c'è una intera branca filosofica e storica no? quindi degli storici di coloro che usano la storia che studiano la storia che si chiamano i microstorici ma ce ne abbiamo anche casi eccellenti in Italia ne avevamo casi anche eccellenti in Italia Giovanni Levi per esempio che si sono accorti che alcuni fenomeni storici non erano proprio comprensibili se non attraverso il ricorso all'analisi delle microstorie all'analisi dei piccoli fatti perché ovviamente quando pensiamo alla storia pensiamo ai grandi eventi i patti le alleanze le guerre però in realtà non c'è solo questo non è detto che la storia sia descrivibile soltanto come sequenze di grandi eventi perché i grandi eventi diciamo succedono perché succedono piccoli eventi piccoli milioni miliardi potenzialmente visto che stiamo diventando tanti di piccoli eventi che creano l'ambiente in cui si possono avverare in cui possono avvenire i piccoli eventi i grandi eventi ok e quindi è interessantissimo questo studio della microstoria e in questo senso è avvenuto diciamo è questo il senso che spiega diciamo l'avvenire di per esempio nuclear anxiety quindi conoscere la microstoria le miriadi di storie le miriadi di punti di vista che si manifestano nel mondo nel pianeta per esempio in 29 lingue diverse ne avremmo potuto prendere in considerazione centinaia in realtà di lingue diverse visto che ci sono centinaia di lingue diverse se includiamo i dialetti con tutte le loro sfumature che vengono perse completamente pensate semplicemente è anche una cosa molto semplice quando il New York Times fa un articolo che cosa pensa Twitter delle bove start up che ne so un argomento a caso fanno una azione molto particolare perché per esempio che cosa se ne pensa delle start up a San Francisco quando si fa questo che ne so il New York Times pubblica una cosa del genere quando il New York Times pubblica una cosa del genere non è propriamente quello che avviene perché innanzitutto catturano soltanto l'espressione in inglese teniamo conto che gli Stati Uniti sono uno dei paesi con più coesistenza di persone che vengono da tanti posti diversi no e quindi catturi soltanto l'espressione in inglese ok interessante no però non così interessante perché e questo è un esempio che ancora non abbiamo pubblicato e sarete i primi a saperlo quando lo pubblicheremo se per esempio catturi in più lingue nella Silicon Valley no su come viene percepito il fenomeno della start up a seconda di quelle lingue catturi hai risultati drasticamente diversi se catturi in inglese per esempio da Twitter da Facebook eccetera eccetera hai una serie di awesome fantastic this is my new start up the start up ecosystem quindi toni dal mediamente al pesantemente positivi se tu catturi in altre lingue o da zone specifiche del territorio hai impressioni completamente differenti basti citare gli spagnoli che sono una maggioranza ce ne sono tanti negli Stati Uniti catturando in spagnolo hai delle impressioni e delle espressioni completamente differenti catturando da dei neighborhood da dei quartieri diversi di San Francisco insomma dalle varie zone della Silicon Valley hai ancora espressioni differenti no perché c'è la gentrification ci sono persone che si lamentano tantissimo del fatto che questa concentrazione di tecnologie nella Silicon Valley ha fatto levitare dei prezzi delle case eccetera ci sono un mare di opinioni diverse ok che non si che non si che non si possono capire semplicemente catturando cosa dicono su Twitter no il in inglese ok ed è interessantissimo ed è interessantissimo perché diciamo è proprio questo discorso della necessità di conoscere le microstorie della loro importanza perché diciamo insomma ci muoviamo se no se studiamo soltanto la statistica ci muoviamo in un in un luogo abbastanza pericoloso pericolante più che pericoloso no pericolante come diciamo il fatto che il fatto che viene diciamo in tutte le tecnocrazie come quelle che diciamo abbiamo attorno a noi quando si vada molto alla misurabilissima statistica e ci si scorda insomma dell'antropologia insomma quindi questo è un una cosa quindi questi diciamo sono esperimenti per esempio questo era molto rozzo si limitava a raccogliere e mostrare su una mappa che ha già il suo interesse però diciamo nell'ambito delle cose possibili che si possono fare è un po' è un po' limitato no però diciamo è già qualcosa che mostra diciamo come si esprimevano le persone semplicemente visualizzandole e e larger consciousness vi ricordate i messaggi di spam larger penis larger qualcosa questo perché l'abbiamo fatto allora raccontiamo la storiella prima ad artefiera che era il 2012 non mi ricordo mademoiselle 2012 io sono terribile con le date artefiera 2012 artefiera a bologna ci siamo messi a vendere queste scatole quindi siamo andati con il nostro banchetto fuori d'artefiera il nostro banchetto fuori d'artefiera e su e anche in una galleria fuori d'artefiera e ci siamo messi a vendere queste scatole ogni scatola costava 9 euro e 99 centesimi cosa c'era eravamo noi noi e due altri artisti mezzapelle e derio madonna purtroppo il suo cognome non me lo ricordo mai mannaggia perché c'è un nickname mi ricordo più il nickname scusate e che cosa contenevano queste scatole in vendita a 9 euro e 99 se le aprivate contenevano una gelatina una serie di infostetiche che mostravano diciamo in sintesi in estrema sintesi quindi quelle erano delle card che potevi sfogliare e che mostravano in una certa sintesi delle statistiche banali statistiche di come le persone esprimevano le emozioni sui social network secondo vari algoritmi di collezione elaborazione eccetera eccetera e al centro c'era una foto di un profilo di un utente random di twitter quindi potevate esserci anche voi non è detto che non abbia venduto una scatola con dentro voi e e c'era un codice un QR code se inquadravate questo codice QR code quindi facevate una scatola una foto alla vostra scatola appena acquistata venivate venivate portati su un'interfaccetta che vi diceva le ultime emozioni espresse sui social network da quella persona quindi quella persona praticamente diventava il vostro tamagotchi umano ed è interessantissimo questa cosa perché ovviamente ci potevi chiestere anche tu no? quindi qualcuno poteva acquistare a 9 euro e 99 una scatola trovarci la tua foto di profilo e ah è triste no? o è felice perché c'è l'ultima edizione di Visualize no capito come? ed è interessantissimo perché questa era proprio la prima domanda che ci facevano le persone ma ci potrei essere anch'io dentro quella scatola certo che ci potresti essere anche tu è difficile per la statistica esatto no? ed è interessantissimo perché questo detto così sembra una cosa ah invade la mia privacy però in realtà è business as usual per tutti no? Facebook fa questo di mestiere Twitter fa questo di mestiere no? capito? l'NSA fa questissimo di mestiere ok? è business as usual per tutti quanti ok? noi quando facciamo le lezioni quindi inizia il corso buongiorno sono il professor bla 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 professoressa bla 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 la prima cosa che facciamo in questi due cose la prima è mostrare alle persone alcuni strumenti per per cercare cose sui social network no? ci sono serie di tool digitali e la seconda cosa è gli diamo mezz'ora per far arrestare 100 persone quindi cosa vuol dire far arrestare 100 persone vuol dire usare questi strumenti digitali per trovare prove documentate di fotografie testi che potrebbero teoricamente essere utilizzate per incriminare 100 persone persone che si fanno la foto con il montarozzo di cocaina persone che smerciano canne cose molte droghe per esempio porno e droghe pedofili eccetera eccetera scioccati che effettivamente in mezz'ora di tempo riescono a identificare se non 100 tantissime persone che potrebbero essere incriminate per cose che pubblicano sui social network no? e questo è scioccante perché che vuol dire questa cosa? che queste persone non si rendono conto che in realtà sono in pubblico e questo diciamo porta alla conclusione che il concetto di spazio pubblico no? è notevolmente mutato rispetto a come diciamo siamo abituati noi probabilmente è diverso ancora per i più giovani di noi e diciamo ancora ci stiamo facendo a cazzotti con questa nuova definizione no? oltretutto ci stiamo facendo a cazzotti anche perché questo spazio pubblico no? perché a tutti gli effetti è uno spazio pubblico no? non è solo in teoria uno spazio pubblico no? perché in realtà è uno spazio privato no? gestito da privati ok? quindi servono tool particolari o permessi addirittura particolari per per cercare dentro questo spazio pubblico mentre su una piazza no? posso anche usare solo me stesso posso vedere delle cose insomma posso fare delle cose e così via in questo spazio privato devo usare degli strumenti particolari no? per esempio per fare questa semplice scatoletta noi abbiamo dovuto sentire il parere di cinque avvocati no? perché? perché siamo al confine tra cosa è legale cosa è illegale cosa gestisce cosa infrange i diritti di privacy cosa no? capito? tutte e cosa infrange attenzione la licenza d'uso con cui facebook e twitter mi permettono di usare queste informazioni aspetta microfono no? così sentono anche in streaming intimidisce un po' però dai no 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 la questione del grande numero di utenti no? che rende relativo il concetto di pubblico e pubblicità perché è come dire in una piazza in cui siamo in cento no? ciò che faccio dico ha una rilevanza se nella stessa piazza fossimo in 6.000 quello che faccio e dico non ha quasi nessuna rilevanza quindi leggo o sento dire a proposito dei social network che abusano quotidianamente della privacy del fatto che questo tema in via di definizione anche giuridica cioè l'oggettivo sovraffollamento della rete non ci espone potenzialmente a una violazione della privacy perché essendo in miliardi è come se fossimo invisibili molti dicono questo non lo so c'è qualcosa di secondo me questo è un parere infatti ne parlo da non esperto di fatti c'è qualcosa di vero e qualcosa di falso no? perché ovviamente anche in una piazza di un milione di persone dipende cosa fai in questa piazza no? in questo ci sono cose che sono più rilevanti anche in una piazza di un milione di persone probabilmente tu non interagisci con un milione di persone no? interagisci con i tuoi amici con quelli che ti stanno accanto magari non sono tuoi amici però ti stanno accanto per motivi fisici di spazio e questo è quello che avviene sui social network siamo in quali sono le statistiche più recenti siamo in un miliardo su facebook boh saremo un po' di più però tu non interagisci con tutto il miliardo di facebook interagisci con i tuoi amici e anche con loro in maniera limitata le statistiche dicono che se tu pubblichi una cosa su facebook questa è visibile sulla timeline di 15% dei tuoi amici qualcosa del genere 10% ok? quindi non interagisci con tutto il miliardo interagisci con il circa il 15-20% dei tuoi amici e con quelli che per vari motivi perché sono parte di un gruppo di cui tu sei parte perché sono parte di una community perché hanno fatto una ricerca su facebook e sei uscito fuori tu eccetera 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 quindi con una parte limitata quindi in realtà è veramente come lo spazio pubblico infatti questo discorso del sovraffollamento va preso veramente con le pinze perché tu in realtà non interagisci chi è che ha la gestione del sovraffollamento solo facebook è interessantissimo e l'NSA no? e chi insomma quei tipi di loschi figure è interessantissimo per esempio parentesi sull'NSA l'altro giorno mi sono mi era venuta in mente una cazzata e mi sono stupito che diciamo si è sviluppata una bagarre infinita perché mi era venuta l'idea che visto che l'NSA raccoglie tutte queste informazioni in realtà potrebbe anche essere un comodo servizio di backup no? e quindi ho pubblicato un messaggio su facebook che NSA oh sei in ascolto? sì lo so che sei in ascolto mi sono perso una mail l'ho cancellata inadvertitamente che me la puoi rimettere nella mailbox di google perché l'ho cancellata per sbaglio ed era una discussione importante se me la potessi ripristinare nella mailbox di google mi faresti un enorme piacere grazie NSA è successo un macello a parte cento milioni di like eccetera però si è sviluppata veramente una discussione incredibile no? perché diciamo le cose stanno cambiando no? addirittura al paradosso che una cosa invasiva e orribile come l'NSA tante persone non non faticavano alcunché a riconoscerne l'applicabilità come comodo servizio di backup no? quindi si proprio si si scioglie proprio come il liquido no? il confine da che cosa viene percepito come bene male pubblico privato è interessantissimo no? a livello antropologico è interessantissimo e quindi queste persone vai microfono volevo chiedere come avete gestito la questione della privacy appunto per quanto riguarda questa scatola perché non lo so magari mi sbaglio però ci vuole un'autorizzazione da parte dei social network appunto per poter fare una cosa del genere o sbaglio? allora in due modi primo modo tecnico noi non usiamo nulla che infrange i terms of service dei social network quindi usiamo le API pubbliche le quindi entro i limiti di utilizzo concessi eccetera c'è questo genere di cose tecniche quindi a livello tecnico non infrangiamo nessun non memorizziamo i dati quindi per esempio quando dobbiamo fare un database e questo vale anche per tutti gli altri progetti che vediamo che vedremo adesso non memorizziamo il dato quindi non memorizziamo il tweet eventualmente memorizziamo il link al tweet quindi se facciamo un'elaborazione di questi tweet per esempio di questi messaggi su facebook magari memorizziamo i risultati della nostra elaborazione e il link al tweet originario quindi tecnicamente facciamo così quindi se voglio memorizzare il fatto che un certo tweet esprime gioia o rabbia o qualche altra emozione per esempio come in questo caso io memorizzo ok rabbia link al tweet ma non memorizzo il tweet ok perché quindi in realtà quindi delego la gestione dei dati personali insomma o plausibilmente personali al gestore dei social network ok quindi questo link qualsiasi che sia esprime rabbia gioia eccetera eccetera quindi questo a livello tecnico a livello diciamo percettivo e filosofico e quindi legislativo c'è anche un altro concetto interessantissimo che in inglese si chiama l'expectancy of privacy quindi l'aspettativa di privacy o publicness quindi di privatezza o di pubblicità che cos'è questo concetto è interessantissimo questo concetto dice che se tu sei in un ambiente che sia fisico o digitale non fa importanza se tu sei in un ambiente qua che è costruito in modo da darti la percezione di di essere uno spazio pubblico e allora questo luogo quindi ti convince e risulta essere convincente nel suo sembrare uno spazio pubblico allora questo luogo deve funzionare come uno spazio pubblico perché altrimenti ti potrebbe trarre in inganno no? è come quando ti vendono le pentole in televisione te le fanno vedere tutte belle in televisione queste pentole meravigliose guardate non si rompono ci potete montare sopra col camion e non si rompono e poi ti arrivano delle pentole orribili che sono diverse da quelle diciamo che si sono viste in tv tu gliele puoi rimandare indietro senza nessun problema e ottenendo risarcimento perché è stato un inganno allo stesso modo diciamo vale questa idea della expectancy quindi dell'aspettativa di privacy o publicness se un luogo viene presentato a tutti gli effetti come privato deve essere privato se no diciamo puoi rifarti puoi chiedere il risarcimento dei danni diciamo e qui si apre un intero capitolo sul come posso immaginare di quantificare i danni no? diciamo e questo in realtà i social network sono costruiti per rassomigliare in tutto e per tutto a degli spazi pubblici no? e quindi posso usarne i contenuti con l'idea di ok se è accessibile in quanto spazio pubblico lo vedo il tweet senza anche necessità di fare login su twitter ok? quindi a tutti gli effetti pubblico lo posso usare in quanto pubblico o lo sai come posso che ne so se sto su un autobus e una persona mi sta dicendo anche la cosa più privata del mondo lo sai bla 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 cosa privata del caso e però diciamo se me la stai dicendo dietro l'orecchio perché stai parlando con l'amico tuo e io te sento non mi puoi denunciare perché l'ho sentita perché io stavo sull'autobus con te tu me la stavi dicendo dietro l'orecchio è la stessa cosa no? quindi se è se si mostra in quanto pubblico no? e viene percepito come pubblico e deve essere diciamo rispetto alle stesse regole del pubblico ok? e questa è la cosa diciamo che il signor gatto in questo caso per esempio magari non sa no? magari non sa che può essere usato come tamagotchi umano venduto a 9 euro a 99 ok? e quindi questo è anche interessantissimo secondo il nostro punto di vista qui c'erano esatto queste erano le schedine infografiche che venivano mostrate no? eccetera eccetera questa era la mappetta che era inclusa come poster diciamo dei più recenti le più recenti distribuzioni di emozioni secondo la codifica del colore che abbiamo visto quindi insomma questi generi di cosette questo era un grafico che mostrava le sequenze di emozioni quindi persone no? persone se esprimono una certa emozione primo stadio poi ne esprimono un'altra e poi ne esprimono un'altra insomma le sequenze di emozioni e altro esperimento vai microfono diciamo giusto solo perché magari vi interessa c'era anche un pezzo di installazione che era anche molto bello nel senso che ed era il motivo per cui c'era la gelatina nella scatola perché insieme insomma agli altri due artisti nella galleria con le scatole c'era un'installazione con una serie di gelatine in cui erano 16 come le 16 emozioni principali che avevamo utilizzato secondo Plucic e quindi diciamo su queste gelatine in tempo reale si proiettavano le emozioni del mondo con una serie di colori quindi diciamo i profili di quelle persone si proiettavano su queste gelatine e c'era quest'altro pezzo che riguarda sempre dati e visualizzazioni assolutamente possiamo spenderlo io ho paura fare feedback praticamente sullo stesso tema in cautious porn abbiamo fatto questa questo tipo di cosa questo tipo di azione in modo ancora più invasivo perché queste sono tutte sono tutti alla fine sono tutti scherzi no sono anche scherzi un po' spiacevoli come in questo caso noi li facciamo li facciamo in modo etico per esempio adesso vi racconto sia lo scherzo sia come diciamo ci siamo assicurati di renderlo eticamente sostenibile no perché diciamo c'è una verità di superficie che non corrisponde con quello che realmente avviene avviene sotto no perché ovviamente noi stiamo dalla parte dei buoni non dei cattivi insomma non ci interessa fare arrecare danni alle persone o cose dal genere però andiamo con la storia perché poi si capisce tutto meglio in cautious porn stessa praticamente cosa di prima cosa succede su in cautious porn succede che appare una nuova start up questa start up ha un uno strano modello di business questa start up si è accorta che tantissime persone quando vanno sulle chat erotiche sulle webcam erotiche con uomini donne transessuali che si esibiscono in pubblico lasciano molto spesso quindi è una cosa che succede moltissimo accanto al messaggio tipo che ne so babe do you wanna have a good time tantissime volte lasciano anche il proprio numero di telefono quindi immaginate che una persona come questo strano signore potrebbe aver visto una webcam di un a secondi gusti di un uomo una donna un transessuale o qualche altra modalità e ha lasciato questo messaggio beh do you want some good time call bla 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 è un numero di telefono è un comportamento veramente ricorrente accade moltissime volte questa fantomatica società quindi questa fantomatica start up nel nel primo round di diciamo acquisizione dei suoi prodotti ha raccolto 400 mila casi di questo genere quindi ha raccolto 400 mila errotti un po' di più in realtà messaggi in pubblico quindi per cui non era addirittura necessario fare il login per accedere a quel messaggio proprio in pubblico quindi la webcam della signorina del signore o altre combinazioni varie diciamo dello spettacolo e in pubblico in chiaro senza neanche dover fare il login messaggi e uno di questi almeno uno di questi era un messaggio con un numero di telefono quindi proprio pubblico in pubblico in chiaro senza neanche necessità di login che cosa fa questa società fa tre cose usa eccolo qua usa il usa il la grafica della pagina quindi per esempio ecco in questo caso proprio era un senza il nostro luogo ovviamente senza l'indicazione di incaucio sporn usa diciamo la grafica trovata nella pagina nella webcam per generare un quadro una tela 70% su questo qua quindi praticamente cattura le immagini provenienti da questa pagina no? le immagini della modella del modello o di qualche elemento grafico della pagina e le mette su una le stampa su una tela 70% ci mette il messaggio e relativo numero di telefono trovato e lo vende online a 50 dollari quindi tu puoi andare sul sito di incaucio sporn e acquistare una tela che c'ha un coso così no? che c'ha un un un'immagine generata a partire dalla pagina in cui si è verificato questo messaggio il messaggio e come facevamo come facevamo vedere in in diciamo in questa in questa immagine anche lo screenshot quindi quando ti mandano il quadro ti mandano anche lo screenshot della pagina questo per esempio era catturato da cam4 che è uno dei più grandi siti di di webcam erotiche e pornografiche online e un certificato un paradossale certificato di autenticità in cui per esempio ti rimandano al link ok questa se vuoi vedere live questo messaggio così sta su questo link no? non finisce qua perché cosa potevi questo per esempio era uno degli altri quadri cosa succedeva quindi che cosa succedeva tante persone si sono messe ad acquistare questi quadri ne abbiamo venduti un sacco era fichissimo 50 dollari 50 dollari 50 dollari e e alcune persone siamo apparsi su boh su vice su msnbc su forbes è stato un macello no? pazzesca startup fa delle cose pazzesche capito? cioè è stato un macello veramente è stato veramente un piccolo caso non enorme però un piccolo caso mediatico tanto che tanto che tante persone si sono preoccupate di essere sul nostro database e quindi la startup che cosa faceva? metteva a disposizione un form con cui tu per 10 dollari potevi controllare se il tuo numero di telefono era effettivamente sul nostro database quindi tu andavi su questo sito pagavi 10 dollari con la carta di credito e nel form con cui pagavi questi 10 dollari potevi inserire il tuo numero di telefono premere invio per controllare se eventualmente il tuo numero di telefono era in questo database e ovviamente noi che cosa ti rispondevamo? adesso c'è no? perché ce l'hai dato tu adesso c'è sul adesso c'è sul nostro database no ma io lo dicevo perché sì no per dire no era il messaggio di risposta del form adesso c'è no? e cosa e cosa era il passeo successivo? per 1000 dollari e potevi chiedere di rimuovere il tuo numero dal database attenzione neanche dal sito web originale quindi ancora c'era online il tuo database soltanto che non che veniva estratto veniva estratto no? rimosso dal nostro database e quindi non sarebbe finito nella casa nel salotto di qualcuno sotto forma di quadro no? quindi questa è anche un'altra differenza quindi non non lo rimuovevi neanche all'origine ok? quindi perché noi per esempio in questo caso non abbiamo nessun controllo sul sito di CAM4 no? però diciamo esatto dal nostro database ed era molto chiaro ok? non lo stai rimuovendo dal sito pornografico da cui proviene lo stai rimuovendo e tantissimi hanno chiesto di controllare se il loro numero fosse presente su questo database alcuni hanno richiesto di essere rimossi dal dal database quindi alcuni hanno effettivamente pagato mille dollari quindi di questa è la storia cosa avveniva in realtà? il quadro ovviamente a noi non interessa far danno a nessuno tranne interessa magari capire capire perché come le persone si fanno danni da soli no? e magari aiutarli a mettere a posto insomma un po' questa situazione diciamo a noi non interessa fare danni a nessuno quindi per esempio nei quadri che stampavamo ci stampavamo l'effettiva immagine l'effettivo messaggio però al numero di telefono veniva sostituito un numero di telefono questo che si vede il blur si vede apposta perché è il mio numero di telefono ci sostituiva ci sostituivamo il mio numero di telefono ovviamente non davamo ad altri ad appendere al loro al loro insomma salotto non davamo il numero di telefono che abbiamo trovato no? gli sostituivamo un numero di telefono altro anche perché così potevamo controllare se lo chiamavano questo numero di telefono no? e quindi a tutti gli effetti ricordiamoci che stiamo parlando di un progetto di ricerca fatto in modo non convenzionale però un progetto di ricerca tra l'altro potentissimo perché ha avuto effetti incredibili se pensiamo ai progetti di ricerca di solito si fanno cento questionari mille questionari noi in questi modi siamo stati in grado di raggiungere qualcosa come 800.000 persone esatto perché stai in mezzo a un fenomeno capito? quindi neanche col bias del diciamo dell'intervista da laboratorio no? quindi vedetelo come un progetto di ricerca quindi prima soluzione non mettevamo ovviamente il numero delle persone ma mettevamo un numero abbiamo comprato una sim che poi adesso è diventata il mio numero di telefono a cui diciamo a cui rispondevamo noi anche per vedere se le persone chiamavano questi numeri di telefono come si comportavano eccetera eccetera quindi le persone pagavano 50 euro per un'opera d'arte che diciamo ci può pure stare ok se non gli stava bene perché si sentivano truffati in qualche modo c'era il modulo l'altrettanto modulo per richiedere i soldi indietro quindi diciamo semplice e lineare i 10 dollari i 10 dollari ovviamente annulliamo la transazione no però era interessantissimo perché perché era interessante capire cosa le persone volevano quante accedevano al form per controllare se il database se il database contenesse il loro numero di telefono quante dopo aver accettato di pagare si accorgevano che oddio però non lo sto rimuovendo dal sito oddio quindi i comportamenti delle persone capire i comportamenti delle persone e poi la più crudele di tutte i mille dollari del pagamento per la rimozione dal database gli facciamo gli facevamo sudare un po' no li facciamo sudare un po' perché mostravamo 15 secondi di di questo loading no quindi loro effettivamente pagavano questi mille dollari era una una forma della carta di credito credibile come tutte le altre come ne abbiamo fatte migliaia e quindi fatto submit no quindi voglio rimuovere questo numero di telefono appartivano questi 15 secondi di loading e poi gli veniva le persone venivano informate che la transazione non era stata eseguita gli spiegavamo che cosa era successo quindi che questo era un progetto di ricerca gli dicevamo di tenerselo per loro altrimenti gli avremmo fatto il la transazione della carta di credito e gli davamo un link a un kit per la protezione della privacy online e quindi per scaricare un kit per la protezione della privacy della loro privacy online e un manualetto diciamo di di come proteggersi online diciamo non pubblicare il proprio numero di telefono eccetera eccetera quindi diciamo è a tutti gli effetti diciamo una cosa problematica no però etica fatti in modo etico e questo è una ulteriore conferma di che cosa sta succedendo no quindi questa questo ulteriore no spostamento no dal da questo strano pubblico a questo strano privato no che stiamo adottando sempre di più in questi in questi anni e questo diciamo cosa cosa vi cosa vi rimane da per esempio se doveste dirlo cosa vi rimane da questo tipo di approccio che usiamo vi sembra strano vi sembra non strano vi sembra che abbia a che fare con la visualizzazione delle informazioni vi sembra che sia una performance vi sembra che da un certo punto di vista anche la visualizzazione delle informazioni sia una performance noi per esempio questo lo viviamo come particolarissima visualizzazione delle informazioni una visualizzazione esperienziale delle informazioni creare un mondo per un secondo in cui diciamo queste informazioni siano visibili percepibili no cosa 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 ne pensate che che mi sembra un mondo per far emergere dei comportamenti no che comunque resterebbero invisibili no delle psicosi delle nevrosi assolutamente assolutamente qualcun'altra qualche altra idea a me sembra un po' quello che che fanno comunque in generale alcune realtà che è quello un po' di acquisire dei dati e rivenderli magari a chi è interessato in maniera molto più spettacolare assolutamente a me sembra un modo per tirare fuori diciamo quasi le perversioni delle persone per poi riuscire a capitalizzarle in qualche maniera è una cosa che mi ha ricordato un mio amico fotografo che vende su internet degli slip usati da delle ragazze e ci allega anche le foto che ha fatto a queste ragazze che sono comunque delle modelle quindi mi ha ricordato questa cosa per associazione diciamo è un modo interessante per guadagnarci un po' secondo me è interessante per esempio noi non ci abbiamo guadagnato nulla per dire però diciamo se no 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 assolutamente il il fatto è proprio per esempio hai colto tantissimo il fatto non è neanche tra il distinguere è per guadagnarci non è per guadagnarci è è interessante perché in realtà cos'è importante è che la definizione stessa di valore sta cambiando no come stanno imparando a loro spese chi uscendone meglio e chi uscendone peggio no anche le aziende le organizzazioni anche i governi stessi così la definizione di valore sta cambiando da una definizione diciamo finanziaria che è un classica no quindi soldi e derivati dei soldi ha una dimensione relazionale no quindi di come si configurano le persone in una serie di un network di relazioni ok e quindi non si tratta più di quanti soldi eventualmente ci ho fatto con questo se ce ne dovesse aver fatto tanti no o pochi o nulla o addirittura in perdita si tratta di capire come si comportano le persone come si esprimono come si comportano nel mondo e come diciamo narrano tutte queste loro micro storie perché noi facciamo una cosa che si chiama near future design near future design è un processo secondo noi interessantissimo perché quando si ha l'idea di progettare il futuro che sarà mai progettare il futuro di solito si ha una idea diciamo abbastanza fantascientifica e abbastanza diciamo da 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 circa barnum da baraccone dei fenomeni no quindi vi invento qualche cosa che sia incredibilmente innovativa a livello tecnologico che è il futuro di qualche cosa di questa cosa di questa cosa no non è la cosa più propriamente interessante da fare la cosa più interessante da fare è capire una serie di cose che include ovviamente diciamo la comprensione dello stato delle arti e delle tecnologie quindi l'avanzamento tecnologico è possibile tecnicamente fare questo tecnologicamente questo eccetera eccetera insomma che vada anche un po' oltre no quindi noi per esempio quando diciamo che facciamo near future design diciamo che ci occupiamo di una cosa che si chiama lo strange now lo strano ora cos'è lo strano ora immaginate che vedete delle persone fare delle cose in tutti i giorni della vostra vita vedete persone che fanno cose uno che siate sulla metropolitana uno che prende beve dell'acqua alcune di queste cose le capite e alcune di queste cose non le capite per esempio uno e noi questi questi tecnicamente li chiamiamo i curious rituals quelli che non capiamo li chiamiamo i rituali curiosi per esempio quale quale era un curious rituals appena appena pochi anni fa ma proprio pochi le persone quando andavano i concerti di solito facevano così tutti continuano la musica adesso fanno così oppure fanno così riprendendosi col palco eccetera eccetera alcuni anni fa un e mezzo questo era ancora un curious ritual cosa vuol dire che avveniva iniziava ad avvenire ma non si riusciva a capire perché come perché come mai perché lo fai perché ti fa eccetera non si riusciva a capire perché per come quando in che situazioni con che cause stimolanti scatenanti eccetera eccetera quindi era questi curious rituals sono cose che avvengono perché le persone le fanno e però che non si capiscono ancora quindi non c'è una spiegazione socialmente accettata socialmente codificata ancora adesso non è più un curious rituals questo di fare tanto è vero che ci sono start up che lo usano ci sono servizi apposta per registrare concerti ci sono servizi per farsi ci sono anche servizi per falsificarlo quindi ci sono servizi per falsificare il selfie a un concerto cercate e vi sarà dato se vuoi dire a una persona che sei stata a un concerto e invece non ci sei stato c'è il servizio che ti fa il selfie che ti fa il film sul concerto per dire quindi non è uscito dal curious ritual ed è entrato nella pratica è entrato quindi nella realtà consensuale quella che sappiamo spiegare questa è la cosa veramente più interessante da osservare da capire come diciamo avviene la transizione quali tra i curious rituals diventeranno diciamo parte del mercato diventeranno una commodity diventeranno un servizio diventeranno una cosa condivisa quali saranno effettivamente spiegati per quali di questi di curious rituals si formerà una spiegazione condivisa codificata socialmente no? perché è questo che descrive mano a mano il passaggio della trasformazione tutti questi che abbiamo visto adesso sono curious rituals grazie pure questo è mettere proprio un numero di cellulare accanto a una cosa buona e lasciarla in diversi siti o in merda per questo di rito le 400.000 persone e quindi iniziali perché poi insomma potevamo andare anche più oltre nella ricerca così sono tantissime cioè non sono tre persone nel mondo che fanno questa cosa questo è un comportamento sociale nuovo ok? assolutamente vai ma mi hanno telefonato molte persone cioè tu hai parlato con molta gente in realtà no ha chiamato qualcuno ehm sì 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 però diciamo e questa è una cosa interessantissima perché ehm quando diciamo stiamo quando ascoltiamo le conferenze quando studiamo i talk quando studiamo le cose quando si parla sempre più di convergenza no? eh si parla sempre più di convergenza e in realtà c'è questa convergenza no? quindi il fisico diventa digitale il digitale diventa fisico eh si crea questo spazio intermedio eccetera eccetera però in realtà non è del tutto vero eh perché eh ancora eh c'è differenza tra ciò che è fisico e ciò che è virtuale eh sta diminuendo sempre di più eh però diciamo c'è differenza eh perché eh per esempio non tantissimi pochi 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 hanno veramente preso quel numero di telefono e non chiamato perché diciamo la chiamata no? è ancora fisica no? pronto? chi è? no? è diverso da scrivere una mail da scrivere un messaggio da scrivere no? usare la voce no? de mezzo strato o sarebbe qualcosa da dire su eh su perché e come si usa la voce no? eh e quindi c'è ancora una differenza no? ehm e quindi è interessante e questa differenza sta diminuendo sempre di più mh? eh però ancora c'è mh? e questa diciamo è questa differenza è ancora un è una delle cose diciamo che eh evidenziamo per esempio di più eh tra eh anche nelle cose che facciamo con con le città no? quindi che ok è interessante analizzare i tweet i che ne so i dati gli open data però poi diciamo c'è un un altro pezzo di mondo no? c'è un altro pezzo di mondo che eh è il sostanziale no? è sostanziale è tanto è grosso eh e oltretutto ha anche il suo eh anche la la sua ragion d'essere no? eh perché diciamo vive di tempi diversi modalità diverse luoghi diversi che non è detto che si debbano tutti schiacciare sul digitale no? ed è interessante anzi diciamo ragionare in una logica di coesistenza no? di quindi di ascoltare sia l'uno che l'altro no? e di avere a che fare sia l'uno che l'altro perché per esempio eh una cosa eh due cose che stanno avvenendo eh tantissimo riguardano per esempio i bambini eh da un lato i bambini stanno progressivamente perdendo no? la capacità di relazionarsi fisicamente eh e dall'altra parte stanno vivendo sempre in in modalità codificate quindi il loro tempo è sempre più codificato quindi c'è il tempo per per imparare il tempo e lo spazio per imparare il tempo e lo spazio per fare sport il tempo e lo spazio e sono codificati quindi c'è la palestra c'è la piscina c'è la scuola c'è quindi e questi codici non sono più più mano a mano che andiamo avanti questi questi codici non sono creati dai bambini no? a Roma no e e e quindi il discorso che queste due cose sommate no? creano diciamo il che per tanti bambini la scansione del tempo quindi sta diventando diciamo una serie di accessi e servizi non c'è più tempo non codificato e questo è anche è gravissimo no? perché dal tempo non codificato quindi dagli interstizi di tempo non codificato nasce proprio la creatività la creatività stessa no? sta sempre diventando più codificata perché si è creativo si va in certi posti ad essere creativi si va all'incubatore di impresa si va all'acceleratore si va eccetera 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 e quindi ci sono spazi per la creatività che è interessantissimo perché diciamo può diventare un processo industriale no? quindi con tutti i vantaggi no? che derivano dai processi industriali però diciamo quando la creatività diventa solo un processo industriale c'è anche una serie di problemi no? tra tutti stanno uscendo centomila startupper e zero filosofi no? ed è interessantissimo perché il filosofo è utile alla società tanto e quanto lo startupper no? ed è questa è una diretta conseguenza diciamo di questa modalità però insomma affrontiamo un discorso gigantesco se vogliamo possiamo farlo però sappiate che è un discorso gigantesco ovviamente probabilmente lo sapete di già no? vai il racconto che hai fatto prima sulla performance al centro commerciale mi sono ricordato di quella di quel piccolo aneddoto perché questo somiglia un po' sembra quasi assolutamente vorrei chiederti se gli attribuivate un potere politico usando la parola politica in un senso puro assolutamente ma guardate le idee di quale lo racconto io al volo sì allora il riferimento era a una performance dei critical art ensemble che tra l'altro sono tra i nostri grandi ispiratori ci ispiriamo moltissimo al loro lavoro hanno inventato la disobbedienza civile elettronica per esempio tra le altre cose la performance era molto semplice loro andavano dentro dei centri commerciali si siedevano per terra aprivano una scatola e da questa scatola tiravano fuori dei pezzi di pista delle macchinine e li assemblavano li montavano quindi costruivano delle gigantesche piste per macchinine e iniziavano a giocare con queste piste per macchinine dentro il centro commerciale e cosa succedeva inizialmente immediatamente arrivava la security e questi venivano cacciati a malo modo dal 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 centro commerciale formalmente perché stavano giocando con le macchinine no? che è una cosa abbastanza eh pazzesca in uno spazio pubblico non potrebbe avvenire no? io in una piazza eh posso mettermi a giocare con le macchinine no? in un centro commerciale no? no? e quindi questa era l'evidenza come in questi casi eh per esempio più come larger consciousness in questo caso eh che quello che sembra a tutti gli effetti uno spazio pubblico in realtà è uno spazio privato i centri commerciali sono progettati per sembrare spazi pubblici no? c'è la piazzetta c'è il bar c'è il no? c'è eccetera però diciamo sono progettati per sembrare spazi pubblici e invece non lo sono a me sembra in realtà che poi paradossalmente qui si ribalta il gioco no? cioè quello che l'utente percepisce come uno spazio molto privato no? in realtà la pornografia online per certi versi sembra aver sostituito il vecchio cinema a luci rosse che sta nella piazza lo vedi che c'è vedi entrare e uscire le persone almeno le si vedeva però lì dentro c'è una specie di zona franca no? e allora uno lo percepisce presumo come qualcosa di estremamente privato queste chat line no? in realtà questo questo esperimento ha reso evidente il fatto che i dati che loro credono di far circolare in un club molto privato in realtà sono di dominio pubblico assolutamente ci sono tanti aspetti questo è sicuramente uno di quelli no? e riguardo all'aspetto pubblico gran parte diciamo scusate all'aspetto politico gran parte diciamo della politica è è una questione di stabilire dove finisce il pubblico e dove finisce il privato no? se se ci fai no? se ci fai ci fate caso gran parte del discorso politico è è lo stabilire un confine dove inizia il pubblico e dove finisce il privato si parla quasi solo di questo in politica quasi solo di questo con eccezione ovviamente però diciamo questo è quasi solo è quasi la totalità dei discorsi politici per soldi per spazi per spazi di pensiero no? cosa posso dire in pubblico cosa posso dire capito? sono quasi tutte discussioni di questo tipo e così ci posizioniamo no? in questo modo ci posizioniamo in realtà ci posizioniamo anche politicamente ci posizioniamo al di fuori del del giudizio per esempio voi non saprete mai come la pensiamo io potrei essere che ne so un dipendente di Google un dipendente di Facebook per quanto ne poi ne possa sapere tu per esempio no? quindi potrei essere un consulente di Facebook no? dell'NSA no? ok? e quindi diciamo la nostra posizione diciamo è nel nel sospendere il giudizio per un attimo o almeno nel non farvi sapere come la pensiamo noi e queste cose sono in essere perché noi per esempio la nostra visione politica coincide con la nostra visione artistica no? che è quella che vede l'artista mutare il suo ruolo no? è come per mi piace tantissimo il parallelo con la musica no? la musica è interessantissima perché prima c'era la natura i suoni naturali no? e quindi la natura fa rumore ci sono l'acqua il legno cosa che casca poi sono nati gli strumenti ad emulare la natura quindi ah che figo se metto in un tubo dell'acqua posso fare questo suono se tendo una pelle posso fare questo suono eccetera eccetera no? poi sono nati i sintetizzatori o gli strumenti elettrici o i sintetizzatori in qualche modo quindi strumenti che emulano strumenti quindi è una generalizzazione degli strumenti poi sono nati i campionatori quindi strumenti che campionano strumenti no? o sintetizzatori o la natura no? o l'industria o quindi campionano tutti i livelli precedenti poi è nata quindi e i campionamenti quindi generalizzano tutti i livelli precedenti e poi c'è il mashup no? quindi la musica elettronica e quindi col mashup si generalizzano di nuovo tutti gli step precedenti quindi suoni e musica di altri il mix quindi i musicisti sono i DJ adesso no? per esempio no? e così via e così via cosa qual è il prossimo step? il prossimo step è la piattaforma no? perché cos'è interessante? paradossalmente i singoli artisti i singoli artisti nel senso di autori perdono importanza adesso nell'adesso nel contemporaneo perché diventano importanti solo perché sono in una piattaforma di espressione ok? fanno parte di una piattaforma di espressione sono importanti che ne so Lady Gaga è più importante perché sta su iTunes ok? che quindi esatto in quanto artista ok? se ci fossero degli artisti probabilmente farebbero Facebook piuttosto che Lady Gaga ok? e quindi questa qual è un nuovo e oltretutto ricordiamoci che non ragioniamo mai in modo esclusivo quindi l'una modalità non esclude le altre ok? quindi va bene Lady Gaga però diciamo c'è anche questa nuova forma di arte che generalizza quelle precedenti no? e in questo modo per noi questo ruolo dell'arte è un'arte di tipo particolare che non si esprime e il cui scopo è di produrre piattaforme per l'espressione di altri quindi piattaforme che vuol dire ambienti ok? ambienti sostanzialmente no? che siano ambienti online che siano ambienti offline o o qualsiasi altra cosa e quindi lo scopo di questa cosa è non sapere se noi siamo d'accordo contro il fatto che questi soggetti gestiscono questi dati in modo ma creare una performance partecipativa in cui si viene messi in un mondo in cui questi oggetti questo brobrio esiste e in cui si è obbligati a partecipare no? perché diciamo bisogna averci a che fare no? bisogna averci a che fare bisogna farci i conti e quindi esprimersi quindi è diciamo un ambiente un mondo in cui le persone si possono esprimere quindi questa per noi è un'opera d'arte che prende la forma di partecipazione collettiva performance collettiva ma favorire questo di voi partecipazione e comunque anche rendere in qualche modo consapevoli gli utenti di questo meccanismo e in qualche modo come dice lui è politico in qualche modo assolutamente esprimono una vostra comunque idea la nostra idea non la sapete mai è vero questo è indecidibile quello che chi siamo come la pensiamo è indecidibile l'importante anche anche in caosus porno comunque anche quello che vedremo apre una possibilità cioè le persone si trovano ad interagire in un ambiente dove molteplici cose possono possono avvenire rimane il disvelamento di un meccanismo ok e quindi è vero che emergono dal sommerso perché il problema qui è un problema di tra virgolette politica delle interfacce quando parliamo di in caosus porno le persone non si rendono conto che lasciano il loro numero di telefono così perché si trovano in un ambiente dove entrano e non è ben definito il codice di quell'ambiente non li guida a definire alla possibilità di prendere una decisione su quell'ambiente allora sì è interessante dare il maggior numero in questo politica delle interfacce che ne so anche quando abbiamo parlato del primo esperimento quello sui nodes quello che abbiamo fatto a Berlino quindi oh mio nome Consciousness of Stream Consciousness of Stream immaginate che quando sono stati disseminati questi totem all'interno di Transmediale quindi del festival le persone interagivano sicuramente con una bella interfaccia di design dove potevano cliccare le loro emozioni mettere il loro video lasciare la loro foto la frase sotto era you are being used stai lavorando per noi ti stiamo usando perché il nostro lavoro non c'è se non fai se non ci metti tu poi decidano loro ok l'importante non so capite che voglio dire almeno nella costruzione dello spazio pubblico nel ripristino dello spazio pubblico ripristino questo lo scriveremo poi scusate io vi informo all'euro di orario che sono le 12.29 quindi immagino che le 13 vediamo questa prima parte dopo che ci sarà il workshop quindi capiamo un po' insieme di andare avanti vogliamo vogliamo andare ed entrare perché diciamo il prossimo volevo fare il passaggio nelle città che quindi entriamo proprio nel vivo di quello che anche faremo durante il il workshop quindi magari entriamo nelle città entriamo nelle città ci dovrebbe no vabbè c'era un video però oh ciao dottore scusami per quanto riguarda sempre una questione diciamo molto vai se questo a se fare in particolar modo con il workshop potremmo anche riprendere se volevate anzi dire o sviluppare qualche altro discorso di così generale possiamo anche rimanere no 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 questo diciamo è perché per noi diciamo è l'evoluzione naturale di questi tipi di discorsi finiscono nella città che è diciamo la maggiore espressione di quello che potrebbe essere lo spazio pubblico no che tu lo faccia online offline no offline o online no diciamo la città è quella che potrebbe essere la massima espressione dello spazio pubblico e in tutto questo diciamo l'idea delle microstorie quindi della microstoria della comprensione di questa microstoria è di fondamentale importanza per esempio non so se conoscete questo figuro questo è Michel Deserteau che ha scritto questo libro interessantissimo che è la pratica delle cose di tutti i giorni the practice of everyday life perché Michel Deserteau che è anche un figuro stranissimo si è un sociologo filosofo gesuita incredibile era convinto del potenziale rivoluzionario della vita di tutti i giorni cosa diceva non parlava per esempio esplicitamente di di microstoria lui parlava delle strategie e delle tattiche del contrapporsi tra strategie e delle tattiche quindi le strategie cosa sono le strategie le descriveva come tutte quelle cose che sono le leggi la burocrazia l'amministrazione quindi tutte queste cose che si fanno perché è così che si fanno tra virgolette ok quindi attraversare la strada al semaforo per ottenere il permesso devi riempire il modello bis per fare una certa cosa devi eseguire delle pratiche amministrative per devi rispettare una serie di leggi una serie di però diciamo quindi è l'apparato burocratico amministrativo e legislativo di un luogo ok quindi queste sono le strategie come le descriveva Deserton e invece c'è con questo con le strategie coesistevano le le tattiche no che sono diciamo una specie di entità più organica no è quello che fanno le persone perché perché Desertò aveva notato questa cosa incredibile che le persone riprogrammano continuamente tutto no navigano tutto no esplorano tutto cambiano le cose no e quindi se è come se in qualche modo ed è come avviene le leggi per esempio le leggi o le pratiche amministrative le leggi e le pratiche amministrative sono fatte sì osservando l'umanità e quello che serve però insomma in realtà sono fatte un po' sottovuoto no quindi non possono prendere in considerazione tutti i casi no c'è sempre una zona grigia che che viene lasciata indietro dalle dalle leggi dalle pratiche amministrative per esempio su tanti moduli no che siano all'Inps o che siano quando mi scrivo a Facebook quale sesso uomo o donna e se io non sono transessuale e quindi diciamo le pratiche legali amministrative e burocratiche non prendono in considerazione la realtà prendono in considerazione un pezzo molto molto definito della realtà e quindi le persone sono costrette a a navigare e riprogrammare continuamente no perché se io sono un transessuale al certo punto devo decidere come il caso noto se andare nel bagno degli uomini o delle donne ok probabilmente andrò a quello delle donne però diciamo non è detto devo riprogrammare se non passa nessuno se sto davanti a un semaforo di notte non passa nessuno e devo attraversare la strada non passa nessuno ed è rosso non non è tanto male che attraverso col rosso ok e quindi e questo si applica in generale perché le strategie per come le ha definito deserto analizzano un pezzettino di mondo e le tattiche invece hanno a che fare col mondo reale col mondo della vita del quotidiano delle persone e quindi secondo deserto le persone riprogrammano continuamente tutto e deserto ci vedeva un enorme potenziale rivoluzionario si parla del 68 in questa cosa tanto è vero che si è messo a studiare continuamente diciamo le tattiche e come potessero rappresentare un potenziale rivoluzionario tanto da scoprire il principale limite delle tattiche degli approcci tattici che è un limite di leggibilità la maggior parte delle volte le tattiche nascono e muoiono con colui o con lei che le ha inventate non sono leggibili per gli altri è rarissimo il caso per cui costituiscano un un sapere condiviso con altri e quindi questo in questo evidenziava un limite delle tattiche in un modo molto simile circa che è stato da voi recentemente mi sa vero? è venuto a trovare quindi dal third space che diciamo è un concetto definito da Edward Soja partendo diciamo da questa idea delle strategie delle tattiche e della loro compresenza in un certo ambiente quindi partendo da Desertot Soja ha fatto ha definito il third space si passa al third landscape quindi cos'è il third landscape è esattamente questa cosa portata diciamo al mondo della natura vegetale e quindi che cos'è è il fatto che sono le strategie e tattiche delle piante per esempio se da un punto di vista amministrativo burocratico e legislativo la natura nelle città è l'aiuola il parco il come si chiama il coso che separa le strade non mi viene adesso il nome eccetera l'aiuola insomma in generale quindi limiti ben definiti precisi la natura non funziona così la natura non funziona per aiuole o per ok qui finisce il parco e qui non è parco no ok la natura non finisce così e quindi Socia Gilles Tremont parla del terzo paesaggio il third landscape che cos'è è la natura che la natura tattica ok la natura che si insinua tra le crepe nei muri sui binari e cos'è è molto importante come nel caso del third space le tattiche sono importantissime perché costituiscono il modo delle persone di rapportarsi all'ambiente che sia la città o che sia un ambiente di altro tipo nel caso del third landscape è importantissimo perché in particolare la maggior parte della biodiversità della natura nelle città sta proprio nel third landscape nel terzo paesaggio non nella non nell'aiuola e non nel parco delimitato no e questo è importantissimo se pensiamo a quanto è importante la biodiversità per per la sopravvivenza insomma di un ecosistema naturale ok e questo è interessantissimo c'è un grosso problema che è di nuovo un problema di leggibilità perché non siamo abituati come non siamo come siamo abituati a dire che so la legge va rispettata di primo acchitto diciamo la legge va rispettata no la pratica burocratica va adempita no eccetera 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 no quindi quindi non siamo abituati a pensare al valore delle tattiche ok allo stesso modo siamo pensati a vedere un'erbaccia erbaccia che cresce nel muro nella crepe del muro e siamo portati a rimuoverla no non siamo portati a pensare che quello sta contribuendo alla biodiversità nella mia città ok e quindi c'è un problema di leggibilità dobbiamo imparare a vedere questo valore come dobbiamo imparare a vedere il valore nel nel third space nelle tattiche per esempio nella città dobbiamo imparare a vedere il valore nel nel third landscape ok per esempio questo edificio che tra l'altro è un rendering non esiste e è è un third landscape diciamo costruito che è lasciato esistere no è lasciato esistere quindi è un edificio utilizzabile in quanto edificio no quindi anche diciamo per la pianificazione urbana quindi le strategie è un edificio però diciamo dà anche spazio al third landscape ok al terzo paesaggio e quindi diciamo è un e quindi la necessità di imparare a leggere le il terzo paesaggio quindi third space third landscape third generation city questo figuro è Marco Casagrande che applica lo stesso concetto però alla città e infatti Marco Casagrande aspetta ah vedi non ce l'ho mi sono dimenticato di aggiungere un'immagine ha fatto una cosa incredibile perché pensa alle strategie della città alle strategie della città in senso diciamo olistico quindi unendo le strategie della pianificazione urbana alle tattiche di come le persone e la natura ovviamente usano i palazzi e quindi Marco Casagrande ha inventato una cosa bellissima che si chiama in Finlandia che lui lavora in Finlandia ha inventato una cosa bellissima che si chiama l'istituto delle rovine perché se ci pensate che cosa sono le rovine prima esce nasce un palazzo per esempio questo palazzo gode di una vita perché sua diciamo amministrativa perché è pensato come un centro commerciale e quindi ci sono i negozi dentro quindi vive di vita amministrativa eccetera eccetera a un certo punto il palazzo finisce la sua vita amministrativa no e perché magari non è più utile avere un centro commerciale non è più redditizio e quindi muore il centro commerciale e quindi cosa succede? Succede che prima si sforma il muschio sopra poi c'entrano gli squatter poi quindi di mano a mano diventa una una rovina ok perché prima si spacca una finestra poi ci crescono le piante dentro ci cresce il terzo paesaggio tra l'altro dentro no eccetera 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 senza arrivare a questi estremi le cose stesse vivono gli edifici stessi anche prima di morire nel senso in questo senso che abbiamo visto vivono diciamo di questa di questo di questo stato di rovina perché se un edificio qual è una delle cose che preoccupa di più gli architetti è che quando loro fanno il rendering del palazzo lo spazio che descrivono è bello bianco la peggioro no? ovviamente non è così diciamo quando l'architetto disegna uno spazio è come è nel rendering in realtà come è nel rendering durerà cinque minuti perché poi qualcuno ci metterà una sedia dentro questo spazio che non c'era nel rendering e poi si romperà la finestra e poi succederà qualche cosa e poi si sporca con lo smog e poi magari l'azienda X finisce di produrre il che ne so il pezzo di ricambio di questa cosa architettori di questo elemento architettonico e quindi questo viene cassato quindi com'è nel rendering dura cinque minuti il palazzo ok? e c'è questo progressivo processo di rovina che visto in che può essere visto in modo negativo ah si è rovinato no? non è più come nel rendering però può essere visto anche in modo estremamente positivo perché la rovina come proprio il terzo paesaggio è il riappropriarsi della natura e delle persone eh dell'edificio ok? quindi come avviene la rovina? avviene secondo il riappropriarsi no? della natura quindi gli agenti atmosferici che azione fanno nel sull'edificio e delle persone quindi l'usura no? come usano le persone che ne so ci sono quelle statue che sono che hanno il piede scavato perché le persone gli vanno a baciare il piede alla statua no? questa è l'usura degli esseri umani lo stesso vale per la sedia lo stesso vale per se tutti passano da qua questa parte di pavimento verrà consumata di più eccetera eccetera quindi è il modo in cui gli esseri umani e la natura si riappropriano degli edifici no? ed è interessantissimo perché perché noi non siamo per niente abituati come nel come negli altri due casi a vedere il valore no? in termini di in termini di diversità e in termini proprio di valore no? ehm pratico del della rovina in questo caso eh? e in qualche modo ci dobbiamo rieducare a vedere a vedere il valore della rovina tant'è vero che Marco Casagrande ha inventato quindi basato su questo e quindi la third generation city no? è come il third space è come il third landscape è quel luogo la città in cui le strategie convivono con le tattiche no? e quindi è una visione un po' più volistica di coesistenza di strategie didattiche e quindi per esempio dall'analisi delle rovine eh? in questo senso quindi come le persone e la natura si relazionano quindi stabiliscono delle reti a tutti gli effetti no? di relazione eh tra ehm la città no? eh gli elementi della città e il loro utilizzo ehm eh Marco Casagrande ha inventato il concetto di agopuntura urbana quindi studiare questi reti di eh relazioni come proprio come se fosse un corpo no? come se fosse un corpo integro quindi studiare sia gli edifici che il modo in cui le persone usano gli edifici il modo in cui la natura agisce sugli edifici il modo in cui le persone comunicano si esprimono eh lavorano attraversano gli edifici e come avviene per esempio in agopuntura studiare queste confluenze questi flussi no? perché alla fine sono dei flussi come come si evidenza in queste immagini come si come si studia proprio il corpo umano no? ehm per trovare i punti di pressione no? cosa sono i punti di pressione per esempio secondo la medicina eh cinese eh sono dei punti in cui dei meridiani no? eh che sono eh nella nella medicina cinese sono i i luoghi in cui fluisce l'informazione l'energia l'energia sotto forma di informazione eh nel corpo identificare questi questi punti di convergenza di confluenza di questi ehm eh di queste informazioni di queste comunicazioni di queste interazioni così e identificarli no? questi punti di convergenza per diciamo poterci fare pressione in modo da risanare quindi ehm quindi agopuntura urbana in questo senso quindi identificazione dei flussi di connessione no? eh nella città di terza generazione per eh capire come intervenire eh puntualmente quindi facendo come in agopuntura urbana facendo interventi puntuali che però diciamo hanno molto più no? eh hanno effetti molto più larghi ehm come ci influenzano a noi così? sì 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 assolutamente cosa facciamo quindi noi nelle città? eh il nostro principale scopo nelle città è proprio tentare di risolvere alla radice il problema di leggibilità degli approcci tattici perché qual è un enorme problema per esempio si parla tanto di che ne so open data adesso no? open data 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 qual è il grosso problema degli open data? eh a parte diciamo il problema alla base no? che non tutti i dati sono open data ok? diciamo dopo questo risolto questo problema diciamo di base no? che le amministrazioni non pubblicano ancora non pubblicano i dati quindi risolto questo enorme problema alla base rimane ancora un problema che gli open data sono di tipo strategico quindi interpretandolo come come lo interpretava Desertot quindi facendo la classificazione che faceva Desertot gli open data adesso sono riguardano le strategie riguardano le amministrazioni riguardano i sensori riguardano che ne so l'inquinamento l'ambiente però diciamo non riguardano le tattiche quindi riguardano la parte amministrativa del mondo riguardano la parte burocratica del mondo riguardano la parte tecnologica del mondo ok? ma non riguardano la diversità del mondo nel senso diciamo delineato da Desertot quindi sono estremamente importanti ovviamente quindi viva gli open data ok? però diciamo come abbiamo iniziato a dire dall'inizio non sono il mondo ok? sono un pezzettino di mondo quello descritto amministrativamente statisticamente legalmente eccetera 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 quindi importantissimi ma non sono il mondo e come proprio abbiamo visto diciamo con con diciamo da filosofi storici come Giovanni Levi fino a Desertot fino a Marco Casagrande fino a Gilclemon eccetera eccetera quindi in realtà manca un pezzo manca la tattica a tutt'oggi le tattiche sono escluse dagli open data ok? e quindi noi facciamo questo mestiere per quanto riguarda questo campo riportare le tattiche negli open data ok? quindi renderle quindi visto che c'è visto che il maggior problema delle tattiche è la loro leggibilità quindi il loro non poter per loro natura non diventano quasi mai una sorgente di conoscenza condivisa e condivisibile quindi il nostro problema è il problema che cerchiamo di risolvere è come si fa a risolvere questo problema di leggibilità di accessibilità e di inclusività quindi come si fanno come si prendono le tattiche e come si trasformano le tattiche in una sorgente di conoscenza condivisa condivisibile condivisa leggibile ok? e di conseguenza anche visualizzabile questo lo facciamo in vari modi per esempio uno lo vediamo qua che abbiamo fatto a Roma nel caso della della festa dell'architettura nel 2010 quindi questa era un enorme 35 metri di muro esatto proiezione che in cui c'erano le tattiche della città quindi in questa proiezione immaginate che ogni puntino è un luogo di Roma no? quindi immaginate che abbiamo georeferenziato dei puntini e però poi abbiamo tolto la mappa da sotto ok? cosa è ogni puntino? è una idea sono persone che tramite un sistema dedicato quindi una app è un sito web e spontaneamente sui social network quindi anche diciamo non sapendolo perché magari hanno vediamo vediamo dopo non sapendolo hanno espresso un'idea per un pezzo della città di Roma quindi usando un sito web oppure semplicemente una persona è uscita su twitter ha detto oh perché non c'è una piscina ci vorrebbe proprio una piscina nel quartiere di Monteverde a Roma e quindi però quindi non l'ha fatto per questo no? l'ha fatto perché magari ha cercato una piscina per sé o per il figlio o per a Monteverde ha visto che erano tutte lontane da casa sua ha detto oh ci vorrebbe proprio una piscina quindi ha espresso un'idea sulla città di Roma un'idea trasformativa sulla città di Roma quindi in queste due modalità quindi una strategica no? quindi attraverso il sito e una tattica perché quella persona anche non accorgendosene perché magari quella persona non lo sapeva che era in questo che sarebbe stata visualizzata qui ok? ha espresso che ci voleva una piscina al quartiere Monteverde di Roma quindi si si posizionavano questi punti sulla mappa e i punti venivano collegati a seconda diciamo di quali punti parlavano delle stesse cose quindi ogni punto aveva un codice di colore o più codici di colore associati se parlava per esempio di tante cose diverse per esempio se si trattava di parco e di piscine c'aveva due colori se parlava solo di due piscine c'aveva un colore solo ok? e i punti di colori simili quindi di argomenti simili venivano collegati quindi di nuovo nasceva emergeva una geografia nuova e per questo che abbiamo tolto la cartina geografica da sotto che era una geografia dei desideri di trasformazione della città e in particolare se vedete se vedete qui in questa visualizzazione c'è un in questa prima c'è una una cosa che va su verso l'alto eh se zoomassimo fuori e rimettessimo la mappa sotto vedremmo che questa questa questo è un arco gigantesco che va a finire in Colombia perché perché un abbiamo scoperto poi perché c'era un architetto che aveva vissuto tanti anni a Roma quindi questo era fatto su Roma e si era innamorato della città però aveva tante idee su come la città dovesse cambiare e quindi questo architetto su Facebook su Twitter insomma dovunque avesse avesse modo sta continuamente dice dichiara idee su come potrebbe cambiare la città di Roma e quindi in questa particolare geografia delle idee di Roma Roma non finisce al confine amministrativo di Roma Roma arriva fino a arriva fino in Colombia eccetera 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 sì 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 no è importante e quindi importantissimo quindi rendere leggibili le tattiche quindi trasformare le tattiche quindi andare oltre agli open data in senso strategico e includere diciamo anche l'equivalente del terzo paesaggio del del terzo del del terzo generation city e quindi la ricchezza della biodiversità no del pensiero no nella città per quanto riguarda gli open data e diciamo rendere le tattiche un elemento leggibile ed è proprio questo quello e aspetta così queste poi tanto sono per dopo e è quello che facciamo con human ecosystems perché cosa facciamo con human ecosystems e qui finiamo questo per esempio cos'è questo che stiamo vedendo questo è sono pochi minuti in realtà di ecosistema relazionale della città di Roma quindi immaginate di catturare per pochi minuti o per tutto il tempo come facciamo noi tutti i contenuti che vengono generati sui social network in una certa città per esempio Roma noi lo stiamo facendo adesso a Roma a San Paolo a Montreal a Budapest Toronto e tanti altri posti quindi immaginate che qualsiasi messaggio viene generato social network in tutte queste città quindi i maggiori social network ovviamente i social network in Cina sono diversi dai social network che abbiamo qua tra l'altro si aprono anche altri discorsi interessanti e quindi immaginate di catturare tutto e di capire quali sono le relazioni che si stabiliscono su questi social network ovviamente cosa catturiamo catturiamo lo spazio pubblico di questi social network quindi quello che le persone hanno marcato come pubblico questo voglio per capirci cose che anche che si possono vedere anche senza fare il login di facebook no senza fare il login di twitter quindi cose veramente pubbliche ok e quindi se e quindi capire le relazioni che si creano nelle varie in queste varie situazioni quindi in questo caso per esempio ogni pallina ecco qua ogni stella infatti sono pure i cubi ogni stella è una persona se c'è un link tra tra due stelle quindi tra due persone vuol dire che quelle persone hanno stabilito una relazione di qualche tipo in particolare lo volevo fermare aspettate un po' e in particolare vedrete che eccolo qua ok vedete che è molto semplice capire le relazioni che si stabiliscono ripeto questi sono veramente pochi minuti dell'attività di Capture su Roma adesso nel workshop cattureremo un po' più di cose e quindi per dotarci di dati sufficienti insomma per fare alcune valutazioni lavoreremo sia su dati che ho catturato e messo da parte insomma per facilitare un po' per non dover aspettare di catturare due giorni di roba insomma fondamentalmente sia per per dati catturati sul momento che ci permettono anche insomma di avere una certa manualità insomma su come si manifestano questi dati con quali abbondanze con quali quantità con quali modalità eccetera eccetera insomma anche con pochi secondi vedete che è facilissimo capire come si stabiliscono le relazioni no? come fluiscono le informazioni per esempio ieri stavo guardando una cosa ed è stato buffissimo perché c'era una nota testata quotidiana di cui non farò il nome che pubblicava su twitter e su facebook degli articoli e era evidentissimo era ridicolmente evidente quali erano i membri del suo social media team no? perché c'era c'era il c'era il che ne so il quotidiano no? il quotidiano di cui sopra che emetteva la notizia immediatamente probabilmente erano dei software no? apposta che rituitano automaticamente c'erano tutto un arco di persone proprio come in questa situazione no? che riemetteva i tweet e poi diciamo il tutto diventava un po' più organico però diciamo era evidente quali erano le persone assoldate no? dal dal quotidiano di cui sopra per fare i retweet no? del caso in maniera automatica quindi era interessantissimo perché si vedevano anche diciamo quali erano le relazioni finte quali erano le relazioni vere insomma più organiche è interessantissimo insomma no? e quindi che cosa ci facciamo con queste? quindi raccogliamo tutte queste informazioni pubbliche quindi descriviamo le relazioni nello spazio pubblico digitale e cosa ci facciamo? le pubblichiamo sotto forma di open data quindi immaginate che in ciascuna di queste città nasce una nuova sorgente di open data in tempo reale che rappresenta l'ecosistema relazionale della città come si esprime sui maggiori social network attualmente le ascoltiamo in 29 lingue che dà anche una cosa interessantissima per esempio a Roma ci sono ogni giorno comunità consistenti che parlano 15 lingue diverse e non mi sto riferendo ai turisti che sono anche essi facilmente identificabili perché diciamo sono come puntini nella città perché non stringono tante relazioni sono nella città però mandano la loro foto e però abbandonano la città quindi radicate nel territorio ci sono comunità consistenti che parlano 15 lingue tutti i giorni quindi è anche interessantissimo da questo punto di vista e quindi immaginate che nella vostra città si manifesta una nuova soggetta di open data che rappresenta l'ecosistema relazionale della vostra città e che voi potete utilizzare proprio come Marco Casagrande utilizza gli edifici diciamo le architetture della città quindi capendo come avvengono i flussi di comunicazione di emozione come si propagano le emozioni le opinioni come sono i flussi di comunicazione di informazione come si propagano i saperi attraverso le comunità attraverso le comunità e cose del genere per diciamo fare l'agopuntura urbana digitale quindi per identificare quei nodi perché ovviamente diverse persone hanno diversi ruoli ci sono gli influencer ci sono gli hub ci sono gli amplificatori ci sono gli esperti ci sono ci sono i ponti ci sono i ponti tra comunità diverse quindi soggetti che noi possiamo e quindi identificare i punti di pressione quindi i punti di pressione su cui agire è interessante agire per per fare delle cose ovviamente qual è il punto di questa il punto interessante è che gli open data questi open data non sono accessibili solo alle amministrazioni ma sono accessibili anche ai cittadini quindi in realtà alle associazioni ai cittadini insomma e quindi in realtà cosa facciamo in tutte queste città creiamo due cose la prima è una specie di monumento iconico all'ecosistema relazionale della città che è il museo interporeale della città quindi immaginate un museo in cui non ci sono statue o dipinti in esposizione ma c'è l'ecosistema relazionale della città in esposizione ok e quindi tu vai in questo museo ci porti lato a scuola e lo puoi navigare puoi fare delle ricerche puoi vedere com'è cambiato dall'anno scorso puoi confrontarlo con gli ecosistemi relazionali di altre città puoi vedere se ci sono pattern emergenti eccetera eccetera che ne so dei cittadini in questa città si sono voluti organizzare in questo modo per pulire un parco della città vediamo se c'è qualche struttura simile nella nostra città che può essere che possiamo utilizzare per fare qualcosa di simile per esempio quindi puoi fare anche le dovute analisi e poi oltretutto c'è quindi questo è il museo temporale della città e oltretutto la cosa interessante è che ti puoi trovare quindi puoi iscrivere in questo museo che di solito si svolge in una cupola poi come planetario ti puoi iscrivere per esempio il tuo nick su facebook o su twitter così e quindi ti trovi ah io sono là capito e quindi ti puoi anche posizionare nella città ok vedi con questi non ci riesco a parlare puoi fare una serie di considerazioni e quindi questo è il museo temporale della città e poi creiamo dei lab dei lab che saranno più o meno quello che faremo oggi pomeriggio e iniziare da oggi pomeriggio nel workshop dove impariamo a usare l'ecosistema relazionale della città quindi cosa ci si può fare cosa ci si può fare se sono un'amministrazione cosa ci si può fare se sono un cittadino che si vuole organizzare per qualche motivo con altri cittadini cosa ci posso fare se sono un designer che vuole creare un nuovo un nuovo una nuova app un nuovo servizio cosa ci voglio fare cosa ci posso fare se sono un artista che vuole fare una opera d'arte generativa che reagisce agli stadi emozionali della mia città quindi ogni persona può imparare ad utilizzare questo ecosistema relazionale e quindi il risultato è che anche le tattiche quindi le microstorie diventano leggibili diventano utilizzabili e diventano una base comune quindi una base un bene comune di conoscenza che è utilizzabile dagli altri quindi questo è il nostro modo di operare quindi quello che faremo anche a partire d'oggi pomeriggio meraviglia domani no se volete fare se avete qualche domanda ben venga bene così bene così a più tardi meraviglia a più tardi grazie a più tardi